Presidente, un passato in meridiana e poi in ala, ora è a capo delle torri di controllo. Da tecnico del settore aviation e guardando al traffico, quali sono le potenzialità di ENAV? ENAV è una bellissima realtà, rappresenta un intero settore della catena del valore del trasporto aereo e rappresenta soprattutto un esempio virtuoso in cui la collaborazione tra il mondo istituzionale e il mondo manageriale ha saputo dar vita una realtà che viene guardata con interesse e attenzione dai nostri colleghi, controllori di volo degli altri paesi, sia limitrofi che in Nord America.